3, 2, 1... Il genitore lo aveva rimproverato perché trascorreva troppo tempo davanti alla PlayStation. L'Inter vince per 2-0 il derby sul Milan e Murigno scatena la polemica. Due spursi e tanti fischi sbagliati. Non vogliono farci vincere lo scudetto, ma siamo troppo forti. Giallo sul divorzio miliardario tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Dopo le indiscrezioni di News of the World arriva la smettita di Pippoli. Due bellissimi sono ancora insieme. Notizie e approfondimenti su www.quotidiano.net